Ciao, buongiorno, mi chiamo Vincenzo, vengo dall'Italia, ho scelto la clinica di Faitman Dursun, che ho visto con uno sponsor su Facebook, per caso ho visitato il suo profilo, subito mi ha colpito, già dagli occhi il suo sorriso mi ha colpito subito, poi ho controllato i suoi lavori, mi ha attirato molto questa clinica, oggi è il mio primo giorno post-trapianto, è andato tutto bene, è in dolore l'operazione, mi sento benissimo al primo giorno, già da subito stavo già bene, consiglio a tutti questa clinica, perché Faitman Dursun è un nome ed è una garanzia, grazie.